Presentata dall'amministrazione comunale di Teramo, la 45esima edizione del premio Teramo per un racconto inedito, una delle manifestazioni letterarie più longeve e prestigiose del panorama culturale italiano. Alla prima edizione nel 1959 parteciparono 76 concorrenti, ma già l'anno successivo pervennero 322 racconti che aumentarono di anno in anno fino agli 800 delle recenti edizioni. Si tratta di una formula, quella del racconto inedito e dall'altro di una tradizione letteraria davvero dignitosissima che fa di Teramo un punto di riferimento per chi predilige e percorre questo tipo di letteratura, questo tipo di modalità letteraria che racconto evidentemente. Premio sottolineare da questo punto di vista che compito di questa amministrazione che si è insegnata soltanto praticamente nel luglio del 2018 è quella di riattivare, riannodare quelle fila spesso recise negli ultimi anni che ha impedito che il primo teramo avesse una sua cadenza annuale e quindi una continuità non soltanto temporale ma una continuità sotto il profilo strettamente culturale oltre che temporale da questo punto di vista. Siamo riusciti a bandire in tempi credo sostanzialmente ravvicinati la 45esima edizione in due sezioni, una sezione speciale di cui si parlerà più tardi evidentemente in maniera più diffusa e nel premio tradizionale del racconto inedito che avremo modo poi di valorizzare al momento della manifestazione finale che si svolgerà sicuramente a ottobre comunque nell'autunno corrente. Le novità di questa nuova edizione? Allora per quanto riguarda il bando e quindi l'invio di racconti inediti non ci sono variazioni rispetto al passato. C'è una novità all'interno del regolamento alla sezione premi speciali. Abbiamo aggiunto un articolo nel quale abbiamo istituito il premio speciale per una raccolta di racconti edita quindi ci apriamo anche all'edito. Aprendoci all'edito questo fatto viene bilanciato però che noi rimaniamo sempre nell'ambito della narrazione breve. L'istituzione del premio Teramo fu strettamente legata ad un tragico evento. Nella notte del 18 marzo del 1959 in un terribile incidente stradale furono coinvolti otto giovani studenti teramani e quattro di essi persero la vita. Stipati a bordo di un'unica vettura si erano recati a Pescara per partecipare ad uno degli incontri che gli universitari abruzzesi organizzavano nel tentativo di favorire la nascita di un ateneo abruzzese. Per ricordare quei giovani, nell'ambito delle manifestazioni del giugno teramano fu bandita la prima edizione del premio letterario Teramo per un racconto inedito che tranne un'interruzione di otto anni dal 1978 al 1986 continua il suo cammino e si conferma come una delle più prestigiose manifestazioni letterarie.